Continuano con successo al centro analisi biochimica del dottore Virginio Albalese nelle sedi di Padula, Atena Lucane e Battipaglia le campagne di prevenzione dallo slogan La linea giusta è prevenire. Il mese di luglio è dedicato alla prevenzione della sindrome metabolica. Con il termine sindrome metabolica fanno sapere i biologi del centro biochimica non si fa riferimento ad una singola patologia ma ad un quadro clinico più complesso caratterizzato secondo le linee guida internazionali dalla presenza di almeno tre fattori di rischio associati all'insorgenza di malattie cardiovascolari come ad esempio l'obesità addominale, l'intolleranza al glucosio, l'ipertensione arteriosa, l'ipertigeridemia e il colesterolo HDL. Diabete, ipertensione ed obesità sono condizioni cliniche sempre più comuni nella popolazione a causa di abitudini e stili di vita errati. Questo spiega l'elevata incidenza della sindrome metabolica. Si stima infatti che in Italia ne soffra circa il 25% della popolazione. Diversi studi scientifici continuano hanno messo in evidenza una serie di fattori comuni ai soggetti affetti da questa sindrome. Si tratta di individui in sovrappeso, sedentari e con elevata resistenza all'insulina. Quindi la predisposizione genetica, le condizioni ambientali come lo stile di vita sedentario e l'aumento di peso giocano un ruolo fondamentale nella sua insorgenza. Tuttavia anche altri fattori incidono sul suo sviluppo come l'età, il fumo, la dieta ricca di carboidrati, il consumo di alcol e scarsa attività fisica. La sindrome metabolica può quindi aprire la strada a diabete e malattie cardiache, due delle più importanti malattie croniche ma è anche associata anche ad accumulo di grasso nel fegato con conseguente infiammazione, potenziale cirrosi, calcoli biliari e problemi respiratori durante il sonno. La migliore arma di prevenzione è l'adozione di uno stile di vita sano basato sul mantenimento del peso forma, la pratica regolare di un'attività fisica quotidiana ed una dieta equilibrata che consenta di tenere sotto controllo la pressione del sangue, i valori di colesterolo e la glicemia. Lo screening concludono e rivolto a persone asintomatiche che desiderano indagare la copresenza di più fattori di rischio associati alla sindrome metabolica e persone in sovrappeso o con ipertensione che vogliono approfondire sul loro stato di salute. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975 74 208 oppure il numero 373 78 32 999